Eccoci tornati in studio, oggi vogliamo presentarvi come già vi accennavo un personaggio importante, una persona che avrà un ruolo fondamentale per la nostra trasmissione RV perché come abbiamo detto di pomeriggio si è vestita con un vestito nuovo, quindi c'è la parte iniziale che viene registrata qui in studio e poi ci portiamo nel cineteatro di Montorio Alvomano e lì oltre al progetto con le bande musicali, con i cori, quest'anno abbiamo introdotto anche il teatro amatoriale e quindi l'ospite di oggi fa proprio da legante tra il nostro mondo televisivo e quello teatrale, quindi benvenuto Angelo del Sordo qui nel nostro studio. Grazie, buon pomeriggio Valentina, grazie anche a questo emittente che ci dà voce. Allora, questa bella esperienza ormai credo sia la prima volta che introduceri il teatro amatoriale e in particolar modo il teatro è di alentare perché il teatro amatoriale non è solo di alentare, comunque è una buona iniziativa anche per fare promozioni sul territorio ma più che altro per far conoscere la lingua, la nostra lingua madre che ormai sono poche che lo parlano. Prima c'era il problema inverso, si troviamo dei ragazzi dalla strada per cui si parlava molto in dialetto anche nelle famiglie, invece adesso con le nuove generazioni questo dialetto viene anche un po' storpiato nella forma perché ci sono dei vocaboli e dei termini che magari non si usano più e quindi devono essere recuperati. noi facciamo promozioni anche per dare anche un messaggio perché poi con il teatro che è una forma di espressione quindi questo messaggio deve passare, deve tornare questo feedback che alla fin fine gli diamo popolarità e valore alle nostre origini. assolutamente sì, hai centrato perfettamente quella che è la nostra mission quest'anno, quella di valorizzare appunto riscoprire e valorizzare l'importanza delle nostre radici in quanto abruzzesi e portarle proprio sul palco, quindi cercare di tramandare il più possibile sia appunto sul palco e quindi in vivo che qui tramite il nostro mezzo televisivo, quindi per noi è una grande scommessa, è la prima volta, quindi partiremo come un esperimento ma siamo certi che questo esperimento funzionerà perché stiamo vedendo quanto il folklore stia ritornando poi un po' alla ribalta. Io ho una domanda da fare, come ti sei avvicinato a questo mondo? Perché immagino che il teatro dialettale non sia facilissimo da raggiungere, è un po' una vent'anni, anzi forse anche più, che sto lavorando con il teatro amatoriale. Per quanto riguarda il dialettale sono pochi anni che mi sto affacciando perché ho iniziato prima con le rappresentazioni di Edoardo De Filippo di Scarpetta, magari quelle più conosciute quando si inizia a fare qualcosa in italiano che poi tra l'altro ci ha consentito anche di uscire fuori dai confini abruzzesi. Se penso che siamo andati a recitare anche al Teatro Olimbico di Vicenza, poi abbiamo riscontrato questa voglia e anche, vedendo anche le altre compagnie tra l'altro, abbiamo riscontrato questo successo e questa voglia delle persone del dialettale, le persone vogliono il dialettale, non tanto vogliono ridere, ma vogliono il dialettale, quindi il dialettale è fatto in un certo modo. E l'ho scoperto invece che il teatro dialettale abruzzese è comune a tutte le realtà territoriali, tranne quella dell'Aquila che noi conosciamo il dialetto aquilano è molto diverso dal dialetto abruzzese, si riferisce molto. Tu hai un ruolo anche importante, perché lo tieni le redini della Federazione Italiana Teatro Amatorio. Per la provincia di Tera, perché la FITA si avvale di questi organismi periferici, quale anche il comitato regionale, però diciamo anche che sul territorio esiste anche un'altra, insiste in un'altra federazione che è la Unione Italiana Libero Teatro, che si occupa delle stesse tematiche della Federazione Italiana della FITA. Certo, la FITA è una delle federazioni, se non la federazione più grande d'Italia, attualmente conta più di 1500 compagnie affiliate, quindi a livello villare sul territorio è piuttosto radicata, è una bella realtà, dove si fanno dei progetti, si tutela il teatro sotto qualsiasi aspetto, fanno promozione teatrale, anche laboratori teatrali piuttosto interessanti, quindi sono dei buoni progetti da portare avanti. Assolutamente sì. Torniamo nel nostro specifico. No, parliamo di questo, perché essendo un teatro amatoriale, io immagino che comunque bisogna mettere in campo tante energie, tanto tempo, non deve essere facilissimo mettere su una compagnia, far parte di una compagnia. Infatti avere una compagnia teatrale, diciamo io l'ho paragonata a un grande orologio, l'orologio è composto da diversi componenti, diversi incranaggi che magari non si vedono perché sono coperti dalla cassa e poi questo orologio deve essere anche abbellito con un bel quadrante, con un bel cinturino e alla fine viene esposto in geleria e viene esposto l'orologio, però noi quello che compone l'orologio non lo vediamo e quindi tutto deve andare alla perfezione perché sia dall'ingranaggio più grande all'ingranaggio più piccolo deve funzionare all'unisono, altrimenti l'orologio non funziona. E questa è la cosa un po' più difficile perché essendo amatoriali, quindi lo facciamo per passione, impieghiamo il nostro tempo per mettere su un prodotto e quindi dopo il nostro lavoro ci si vede e magari si prende il copione, bisogna studiarlo, bisogna prepararlo e comincia a diventare, non dico oneroso, però sai la passione muove tante cose. Assolutamente, è un grande impegno. Ci sono delle grosse energie che poi vengono ripagate, ecco il famoso feedback che torna noi, consensi da parte del pubblico. E a proposito di questo parliamo della rassegna che abbiamo messo su grazie al tuo preziosissimo contributo perché noi porteremo sul palco e poi anche in televisione tutti i giorni, da lunedì al venerdì e poi il sabato manderemo lo spettacolo complessivo, otto spettacoli, quindi sarà una bella rassegna ricca che registreremo dal vivo a Montoreo Alvomano, quindi al Cineteatro di Montoreo Alvomano. Ci vuoi parlare della selezione che hai fatto tu personalmente di queste compagnie? Sì, intanto faccio le congratulazioni con l'organizzazione perché anche il sito di Montoreo Alvomano non è un sito scelto a casa. Visto che possiamo fare un po' di promozione a livello territoriale e quindi abbiamo scelto le compagnie maggiormente del Terramano perché è per uniformare un po' i dialetti. Poi magari l'abbiamo esteso anche alla partecipazione di altre compagnie delle altre tre province generazioni, proprio per mettere a confronto i dialetti e quindi sarà una cosa veramente speciale che già ho provato con altre esperienze e anche io organizzo una rassegna qui a Terramo, speriamo che quest'anno riuscirò a farlo. Però intanto iniziamo a leggere il nostro cartellone. 15 dicembre. 15 dicembre i giovani amici del teatro di Pescara. Questa è una compagnia giovane, io quando dico compagnie giovani sono sempre compagnie che hanno 20 anni di attività perché ce ne sono altre che conosciamo anche sul nostro territorio che ne hanno più 40, 50 e quindi capite che fanno veramente storia perché tenere un gruppo per 40 anni, 50 anni ed essere sempre sull'onda del successo, perché noi quando magari si sente una compagnia, ah sì è quella, l'ho vista, quindi sono delle compagnie molto conosciute che si sforzano e portano avanti questo discorso. Beh è un bell'impegno insomma, un grande impegno. Senti, i giovani come reagiscono? Ci sono dei giovani che comunque si stanno approcciando, le nuove leve? Ecco, questa è un po' la debolezza del teatro dialettale, del teatro in genere, perché chi vuole fare teatro magari si butta nella scuola il teatro, fanno laboratorio, fanno altri progetti, questo invece è il teatro che è della strada, è il teatro improvvisato, noi giochiamo a fare gli attori, giochiamo a fare i registri, magari giochiamo anche a fare, a scrivere commedie, però dalla nostra parte abbiamo poi il pubblico che ti incentiva a fare tutto questo, quindi anche qui c'è stata un'evoluzione, il problema è che non abbiamo questo ricambio generazionale, perché forse fecchiamo di comunicazione, dobbiamo trovare dei sistemi per avvicinare i giovani a questo tipo di attività. Vogliamo invitare i ragazzi che ci stanno seguendo magari ad unirsi, a contattarvi, magari a provare, a mettersi in gioco. Io anche come FITA, la FITA si fa molti progetti con i giovani, addirittura c'è un Erasmus dei giovani, c'è un progetto ITAF con i giovani, quindi dà molto spazio perché ci deve essere questo ricambio generazionale. Anche perché il teatro è un po' una palestra di vita, quindi insomma si scende dal palco sempre un po' trasformati, quindi è un'esperienza che secondo me dovrebbero fare tutti quanti, i giovani soprattutto diciamo. Ma torniamo a noi perché ahimè il tempo è tiranno, quindi diamo almeno gli appuntamenti di dicembre, poi sicuramente il nostro pubblico sarà aggiornato volta per volta di tutti gli altri appuntamenti, anzi no, io li nominerei tutti quanti, farei così perché… Sì, è interessante, è il 22 di dicembre e siamo quasi alle porte del Natale e quindi il carrozzone ci farà fare sicuramente il Natale con tanto, con tanto risale. Bene, bene, ci vuole, ci vuole. Il Natale ha insegna del buon umore, quindi con il carrozzone di Antonio Capuani il teatro è diciamo è una garanzia, è una garanzia, con Antonio si basa veramente sul divertimento e qui tante lacrime, ma lacrime di divertimento. I girasoli che sono una compagnia poi tra l'altro sono diversi anni che sono sul territorio locale, sono molto conosciuti perché poi loro d'estate fanno delle belle rappresentazioni. Eh sì, ma noi abbiamo avuto modo di conoscerli infatti proprio quest'estate, quindi insomma… Il teatro dialettale maggiormente noi lo conosciamo nelle piazze perché è più alla portata di tutti, è un vaccino che noi dobbiamo conservare e quindi dopo i girasoli poi andiamo al gruppo dell'Aquila che è anche questo, mettiamo un po' a confronto i dialetti anche per renderci conto che il dialetto aquilano è una lingua del tutto diversa da quello che sono i canoni abruzzesi e quindi riscopriamo anche questo tipo di comunicazione. Il Drago d'Oro è un'altra compagnia che non ha bisogno di presentazioni perché il Drago d'Oro essendo di adesso ma è conosciuto un po' su tutto il territorio abruzzese perché anche loro organizzano un'importante rassegna, si chiama il Drago d'Oro e che hanno questo quartier generale che è il teatro di Adessa, il teatro di Iorio che è una vera e propria bomboniera e quindi sono molto conosciuti e anche molto bravi. Poi abbiamo un'altra compagnia il 16 di febbraio che è la Lanterna di Diogene, una compagnia riverasca marinara di Martinsicuro e anche loro sono molto conosciuti specialmente lungo la costa in Val Vibrata, è una compagnia che sono da diversi anni, anche loro operano da diversi anni sul territorio abruzzese e vengono invitati a diverse rasseglie perché sono veramente bravi. La compagnia Atrià è una compagnia molto conosciuta, hanno più di 50 anni di attività sul territorio, quindi capeggiata da Giancarlo Verveglia e sono 50 anni che rappresentano le loro commedie. sono un po' i pionieri del teatro dialettato e poi finiamo con i Sestini, i Sestini è l'unica compagnia di Teramo. Ti vedremo sul palco? Sì, sul palco in versione da attore questa volta, vediamo una completa trasformazione perché chiaramente l'attore deve fingere e con i Sestini concludiamo questa rassegna con un piacione. Va bene, allora noi ti ringraziamo nel frattempo, quindi restiamo in trepidante attesa dell'inizio di questa rassegna, lo ripetiamo, le domeniche a Montorio Alvomano presso il Cineteatro, il calendario è pronto e noi ti ringraziamo per questo contributo perché è un contributo importantissimo e ci vediamo a teatro allora. Grazie, io vi aspetto tutti a teatro e sostenete il teatro amatoriale, in particolar modo quello di Alentrani. Grazie, grazie molto. Grazie.